Un episodio triste e gravissimo, mi sembra che riveli un po' quello che è il clima che si sta diffondendo sempre di più anche nel nostro paese. Monsignor Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto Norcia e presidente della conferenza episcopale Ubra, commenta così quanto avvenuto in una scuola elementare di Foligno. Per il presule è vero che c'è un crescendo preoccupante di episodi, chiamiamoli razzisti, ha detto, che ci fanno temere per la convivenza civile del nostro paese. Un clima di diffidenza e opposizione, ha aggiunto, riguardo alle differenze. Pensiamo alla tragedia dei migranti che diventa un po' emblematica di tutto il resto. Mi fa piacere però che un episodio di questa portata susciti delle reazioni a livello locale e nazionale perché vuole dire che gli italiani hanno ancora una coscienza e hanno ancora una attenzione e una sensibilità che apparentemente sembra venire meno, ma che nel fondo costituisce il grande patrimonio del nostro paese.